Siamo per il balcarci sul Cruis, Cruis Roma Grazie Stiamo salendo sul Cruis, questa è Chiara E il Cruis Roma Sì, sto a fare video per... Sì, esattamente Sì, esattamente Prima era il Cruis Roma, Chiara Davvero? Sì Sì, oddio Eh, oddio Davvero? Cioè, il Cruis Barcelona non è in servizio Oddio, perché? Questo sembra andato e ritorno, andato e ritorno, andato e ritorno Ma non si stupano mai io Eh, infatti io sono, se stupano mai Ma non dormono mai, Chiara? Ma sì, ma fanno i cambi Fanno gli altri Spero, altrimenti questi sono briachi se bevono la sangria in Francia Infatti vedi perché andiamo a Francia, andiamo a fare gli ucidanti Buonas tardi... Sì, adios Che cacchio, dios Buonas tardi, a Marsa, a luna di sera, buonas tardi Ok, a tra poco